Si svolgerà l'11 dicembre nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Ostuni il convegno sul tema il Covid nelle malattie oncologiche e cardiovascolari. L'evento è promosso dall'Associazione Amici del Cuore della Città Bianca in collaborazione con la ASL di Brindisi. Durante la manifestazione si alterneranno illustri relatori. Momento centrale dell'incontro sarà il ricordo del dottor Elio Spennati scomparso di recente. Il tema dell'evento non poteva che essere quello del Covid, infatti l'impatto del Covid nelle patologie oncologiche e cardiache. Inevitabilmente il Covid ha portato dei peggioramenti nelle patologie cardiache ed oncologiche perché purtroppo la gente per via del Covid è arrivata tardi su alcune patologie, sia oncologiche che cardiache. Quindi hanno portato inevitabilmente un peggioramento. Quindi questo evento lo dividerei in tre parti. Una prima parte dedicata alla tavola rotonda per il nostro compianto concittadino e medico cardiologo il dottore Elio Spennati al quale andrà una tavola rotonda dedicata a lui e ci sarà un momento quindi un pensiero per il dottor Spennati. Una seconda parte dedicata appunto all'impatto del Covid nelle patologie cardiache ed oncologiche dove autorevoli relatori quali la professoressa professoressa Giorgina Specchia, oncoematologa del Policlinico di Bari, illustrerà appunto l'impatto del Covid nelle patologie oncoematologiche. Il dottor Castagnaro che ci spiegherà le problematiche polmonari con il Covid ci sarà il dottor Christos Perlepes e infine il dottor Fabio Sgura. Tutti autorevoli diciamo relatori che conoscete benissimo e che appunto ci parleranno di tutto questo. La terza parte sarà dedicata insieme all'ausilio della ASB di Brindisi. Ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di vaccinarsi sia con il vaccino anti-influenzale sia con la terza dose o chi non ha ancora purtroppo fatto la prima dose potrà appunto fare il vaccino anti-Covid.